Edward! Ciao! Susan! Ciao! È bello incontrarti. Sei bellissima, come sempre. Sei stata la mia prima cotta quando andavo a Malestis. Anch'io ero cotta di te. Non farlo, lo rimpiangerai. Quello che ami di lui è ciò che odierai tra qualche anno. Io volevo diventare la persona che credevi che fossi. Quando ami qualcuno, devi fare attenzione. Potrebbe non capitarti più. Il mio ex marito mi chiamava Animale Notturno. Non sapevo avessi un ex marito. Lo amavi? Presa dal panico gli ho fatto una cosa orribile. L'ho lasciato in un modo brutale. Che possiamo fare? Dipende fino a che punto vuole spingersi perché sia fatta giustizia. Siete pazzi. Vi state sbagliando. Me ne pentirò per tutta la vita, lo so. Sarà dura per loro là fuori senza sapere come accadrà. Nessuno può cavarsela dopo una cosa come quella che avete fatto. Nessuno. Non è unília. No è un'incita. No l'impara. È unhalto. No è un aeron Adolfo.